Secondo turno Mingguian con Cinderella contro Valli con Idol Master Oh, bella! Eh! Si ci hanno un personaggio di musica che si fa da più da anni e a me le mezze Quindi adesso per la picca è Plains del Dio Ok Resto due per il professor San Lorenzo a primavera Questa è da tutti gli altri personaggi di musica Cinquecento E sei il trid Quello di Max si chiama Hackwise Posso pagare uno Poi posso scegliere un po' di sbaglio E poi posso scegliere un po' di sbaglio Ok Solo in Astax? Si, solo quello specifico Ok Lei Lei ci è in quaccento globale Quando attacco posso rimischiare i due personaggi La vuoi tirare uno nel mazzo e prende più un solo per il numero Uno, due Due Grazie. Allora gioco lei, rivelo, non è un Climax quindi può toccare. Allora gioco lei, lei fa Brainstorm, capo 2 e pago 1 per ogni Climax salveggio, quando gioco un Climax posso rivelare la prima carta, se è un personaggio posso dare più un fauna a queste punti. Oddio! Capitano del nuovo, il capitano del nuovo, mi vedi? E questo sta pulito! Grazie. 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 Grazie, grazie. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 a tutti.